L'entrata in esercizio della nave rigassificatrice FSRU Singapore avverrà agli inizi del 2025. Sono stati presentati in comune i progetti di SNAM, il principale operatore europeo nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale nel territorio di Ravenna. L'azienda è impegnata nelle opere di allacciamento alla rete gas nazionale della nave rigassificatrice che arriverà a Ravenna a ottobre 2024. Firmata anche la convenzione relativa alle opere di compensazione a carico di SNAM pari a 10 milioni di euro a cui si aggiungono quelle di mitigazione pari a 15 milioni per un totale di investimenti di 25 milioni di euro. The Onshore in realtà sarà pronta prima del progetto nel suo complesso. Il progetto, come dicevamo, verrà completato entro la fine del 2024. Questa Part Onshore di 32 chilometri sarà pronta qualche mese prima. Quindi parliamo appunto... Fine del 2024 comunque. Poi a quel punto cominceranno le attività di test, di prova e poi, come abbiamo detto in conferenza stampa, alla fine del primo trimestre contiamo di iniziare le attività. Stendo la posa della condotta a terra, i 32 chilometri, che dalla costa porteranno il gas fino al punto di ingresso della rete nazionale. Quindi qui siamo nella parte che circunnaviga la città di Ravenna.